Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor07 è arrivata l'ufficialità circa due settimane fa ma io vi porto il video oggi purtroppo sono stato un po' impegnato ragazzi ma questi giorni come vedete sto caricando molto più spesso dei video arriveranno, me lo chiede sempre Michi, arriveranno le top, ce le ho quasi pronte però preferisco farle uscire tutto un tiro piuttosto che farne uscire una, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra le faccio uscire tipo, sono sette top che farò uscire in sette giorni consecutivi piuttosto che farò uscire una top ogni due o tre giorni e aspettare che siano tutte pronte quindi aspetto appunto che siano tutte pronte ma senza caricarle e poi le carico tutto un tiro per esempio sono sette, le caricherò per sette giorni di fila allora Valentino Rossi si ritira e non credo servano parole per descrivere innanzitutto la carriera di Rossi prima di dire se è giusto che si sia ritirato o meno, anche se se è giusto lo può decidere solo lui io dico semplicemente il mio pensiero dicendo secondo me poteva continuare perché secondo me è stato giusto abbandonare perché, io dico semplicemente delle mie opinioni ragazzi Rossi è un pilota probabilmente il più talentuoso che la MotoGP abbia mai avuto perché lui appena entrato in, forse solo Mark Marquez può essere paragonabile ma non credo arrivi a livello di Rossi perché Rossi arriva nella Moto3 che sarebbe la 125 all'epoca nel 96 Rossi se non mi sbaglio aveva meno di vent'anni lì perché Rossi che anno è nato andiamo a vedere più o meno come è del 79 quindi Rossi nel 96 aveva circa 17 anni aveva circa diciamo 16-17 anni e quindi lui al primo anno vince già una gara e termina il mondiale in una posizione salendo due volte sul podio vincendo una gara in Repubblica Ceca e comunque era stato un buon inizio per un 16-17 anni arrivare in uno nel mondiale, 111 punti e con un promovolso è stato veramente un, secondo il mio punto di vista, un bel risultato il secondo anno già non ce n'è per nessuno ha vinto praticamente quasi tutte le gare che ha corso andiamo a contare ben 13 vittorie su 17 gran premi 321 punti e vince la 125 a 18 anni quindi sarebbe la Moto3 ha vinto a 18 anni a 19 anni sbarca nella classe 250 e con l'Aprilia al primo anno vince 5 gare sale per 9 volte sul podio e arriva secondo con 201 punti totali non è arrivato primo per via di ben 5 ritiri perché senza quei 5 ritiri avrebbe già vinto al primo anno da rookie la Moto2 X250 l'anno dopo si ripete questa volta non ci sono molte cadute solamente una caduta in 18 gran premi vince 9 gare praticamente alla metà delle gare le ha vinte tutte lui quando non ha vinto è comunque arrivato sul podio e quindi ha fatto dei risultati sicuramente secondo un'ultima rivista straordinaria al secondo anno ha già vinto da ventenne praticamente la Moto2 arriva il MotoGP che è il primo anno da rookie e sottolineo da rookie classe 500 con la Honda fa secondo posto vincendo due gare e arrivando sul podio in 3, 6, 9, in 11 occasioni al primo anno da rookie ragazzi il secondo anno non ce n'è per nessuno vince 5, 7, 11 gare ragazzi primo posto ed è già mondiale vinto in MotoGP praticamente lui ogni classe al secondo anno vince sempre l'anno dopo si ripete l'anno dopo ancora si ripete l'anno dopo ancora si ripete l'anno dopo ancora si ripete sono 5 mondiali vinti consecutivi ragazzi nel 2006 e nel 2007 due anni di sosta con un secondo e un terzo posto nel mondiale comunque con molte vittorie 5 vittorie nel 2006 4 vittorie nel 2007 due anni di sosta con la Yamaha dove fa vincere Nicky Hayden e Casey Stoner davvero per pochissimo per poi tornare a dominare nel 2008 con 11 vittorie e un primo posto e nel 2009 con una lotta serrata ma comunque portando a casa anche qui il primo posto ottenendo 5 vittorie e 13 voti ragazzi quindi una stagione veramente pazzesca per Valentino Rossi che porta a casa ben 7 mondiali finora su praticamente quanti 7 su 9 in MotoGP finora e se ne consideriamo il totale ha portato a casa 9 mondiali su 13 una cosa veramente assurda ragazzi poi inizia un po' il declino nel 2010 con la Yamaha si infortuna 4 gare quindi non riesce a competere per il mondiale lo cede a Orge Lorenzo e arriva terzo nel 2011 passa la Ducati in due anni ottiene solamente tre podi e piazzamenti molto indietro settimo nel 2011 un po' meglio nel 2012 sesto con 40 punti in più rispetto all'anno precedente torna in Yamaha fa quarto posto nel 2013 facendo vincere il rookie Marquez e nel 2014 riesce ad andare un po' meglio secondo però termina secondo però praticamente Marquez ha vinto il mondiale con più di 100 punti di vantaggio nel 2015 combatte nuovamente per il mondiale ma lo stesso Marquez glielo ha voluto togliere glielo ha voluto togliere Marquez il mondiale sappiamo che tutti questi successi nel 2015 e arriva secondo l'anno successivo vince due gare sale 10 volte sul podio arriva secondo perdendo ancora una volta il duello con Marquez nel 2017 purtroppo è vittima anche di un infortunio non avrebbe combattuto per il mondiale lo stesso ma alla fine arriva a quinto l'anno dopo ripete un ottimo anno ottenendo 5 podi e arrivando terzo nel mondiale no 6 podi scusate ragazzi arrivando terzo nel mondiale nel 2019 purtroppo la Yamaha ha un calo di rendimento la moto è difficile da guidare Rossi si ritira 4 volte e ottiene solamente 2 podi ma comunque attiene un settimo posto finale nel 2020 con Marquez fuori dai giochi lotta per il titolo poi arrivano 3 cadute consecutive un infortunio che lo tiene fuori praticamente 3 gare e quando torna è ormai troppo tanti ma comunque fino a quei 3 ritiri consecutivi Rossi si giocava il mondiale nel 2020 nel 2021 probabilmente l'anno peggiore di tutta la carriera di Valentino Rossi quello che sarà l'ultimo ottiene sempre piazzamenti nelle retrovie ma noi sappiamo che nella MotoGP moderna i piloti sono molto vicini tra loro questo perché non è un caso che Pedrosa appena torna fa decimo questo perché i piloti sembrano diventati dei maggiordomi delle gomme come dice The Talking Helmet quindi è sbagliato dire che Rossi ha avuto come dire 11 anni di niente per 11 anni è vero non ha vinto il mondiale ma varie volte si è piazzato al top se andiamo a vedere i piazzamenti finali terzo e qui poteva vincere perché siamo in fortuna terzo settimo sesto quarto secondo 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 quinto terzo settimo quindicesimo quest'anno per il momento se non mi sbaglio è sedicesimo nel mondiale non sta facendo un brutto mondiale ragazzi perché dico questo perché lui guida la stessa moto di Morbidelli e comunque molte volte non è facile secondo il mio punto di vista mettere dietro Morbidelli ragazzi Morbidelli è un pilota tosto cioè difficile da tenere dietro ragazzi Valentino Rossi non ha fatto secondo me un brutto mondiale fino a questo momento perché a volte ha battuto anche Vignales quindi insomma se la gioca al centro gruppo poi a turno qualcuno del centro gruppo riesce a lottarsela con i piloti di testa ma Valentino Rossi ragazzi non ha fatto finora proprio un brutto mondiale dobbiamo dire è davanti comunque Marigni e Lecuona che più o meno se la giocano con lui nelle retrovie è solamente due punti dietro a Danilo Petrucci solamente tre punti dietro a Enea Bastianini che più o meno sono quelli con cui sarà lotta quindi insomma ragazzi non è un bruttissimo mondiale quello finora di Rossi anche perché guida una moto che non è molto performante cioè ragazzi non è che sta delirando con la moto che guida secondo il mio punto di vista ragazzi non è sicuramente quello di un tempo questo non ho dubbi perché fa fatica sulla moto fa troppe cadute e fa troppi errori singoli insomma ragazzi fa degli errori rossi ma non è che comunque sia davvero sul procinto di ritirarsi come si vuole dire le mie prestazioni non sono buone si sta ritirando perché probabilmente non gli piace vedersi in quelle posizioni secondo il mio punto di vista perché se in questo momento Valentino Rossi avesse la Yamato di Vignales nonostante quella moto incentrata su Cartaro sarebbe più volte per combattersi il gruppo di testa sarebbe più volte il gruppo di testa combattersela lì ragazzi secondo il mio punto di vista quindi insomma ragazzi secondo me è molto molto sbagliato dire che si è ritirato per inviare le prestazioni perché quest'anno le prestazioni di Rossi non sono brutte secondo il mio punto di vista certo non è il migliore degli italiani perché Bagnaia quest'anno sta facendo veramente veramente un bellissimo mondiale è stato anche sfortunato di verse volte ma non lo considero a livello di Cartaro che si sta meritando di vincere questo mondiale anche perché secondo me il mondiale è una cosa insomma tre tra Cartaro Bagnaia e Mir Vignales ormai non può più rientrare in lotta avendo esaltato praticamente due gran premi Mark Marquez comunque ha ottenuto dei bei piazzamenti ma ha sprecato varie chance come quella di domenica scorsa come il ritiro in Francia dove era prima ha sprecato varie chance dove poteva essere magari un po' più vicino al gruppo di testa ma comunque abbastanza lontano dalle prestazioni di Fabio a Cartaro e quindi ragazzi per me con una moto più performante Rossi sarebbe ancora al top secondo me non dico a livello di Cartaro perché a quello non ci rimane nessuno però secondo me sarebbe al top ragazzi non ci scordiamo che guida una Yamaha di quelle scarse quelle che l'anno scorso hanno ottenuto 6 pole e 6 vittorie ma che quest'anno non stanno andando bene nel rendimento e l'anno prossimo ci sarà Morbidelli nel team ufficiale infatti il team Yamaha 2 diciamo così non credo esisterà il prossimo anno perché Morbidelli va in Yamaha ufficiale Rossi si ritira Vignales non c'è quindi bisognerebbe trovare due nuovi piloti infatti sarebbe una situazione molto molto strana in qualche modo da vedere e nulla ragazzi io quello che dovevo dirvi l'ho detto penso che Valentino Rossi comunque se si è ritirato un motivo ci sarà probabilmente perché non gli piacevano le posizioni in cui stavano ma è sbagliato dire che non è più quello di un non è aspetta quello che era più quello di un tempo è vero ma è sbagliato dire che doveva ritirarsi per le prestazioni perché ragazzi le prestazioni di Rossi erano comunque nella media non è certamente il Rossi dei tempi d'oro ma erano rossi comunque secondo me nella media anche perché ripeto i piloti di oggi sono poco talento e si vede troppo sta cazzo di gestione delle gomme sembrano di essere diventati dei maggior temi delle gomme e deve essere un po' curata secondo me questa cosa detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto ci mancherà i cazzo dottore se vi è piaciuto vi lasciate un mi piace se non troverete un dislike commento se siete d'accordo se siete d'accordo se siete d'accordo con me se non l'è ancora fatto iscriviti al canale in descrizione il link per i segreti su Instagram da MoniSpar07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi grazie